Arrivano le prime richieste di condanna nel processo per la morte delle 40 persone precipitate a bordo di un bus il 28 luglio del 2013 dal viadotto Acqualonga della 16 Napoli-Canosa. Nell'udienza preseduta dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino Luigi Buono, il PM Cecilia Necchini ha chiesto 12 anni di reclusione per Gennaro Lametta, il titolare della Mondo Travel e proprietario del bus che nell'incidente presse il fratello Ciro che era alla guida del mezzo, l'uomo accusato di concorso in omicidio, lesioni e disastro colposo. 9 anni per Antonietta Cerriola, dipendente della motorizzazione civile di Napoli e 6 anni per Vittorio Saulino, anche egli dipendente della motorizzazione. Secondo la procura Lametta è responsabile non soltanto delle pessime condizioni del bus immatricolato nel 1985 e con 800.000 km percorsi, ma in primo luogo per non aver sottoposto l'automezzo a revisione. Se questo fosse avvenuto o sostenuto la pubblica accusa, l'automezzo non avrebbe ottenuto l'autorizzazione a circolare. I due funzionari della motorizzazione civile sono stati invece accusati di non aver assolto alle loro funzioni di controllo che avrebbero impedito la circolazione del bus. Per i due il capo di imputazione di falso in atto pubblico. La differente richiesta di condanna, 9 anni per la Cerriola e 6 per Saulino, si spiega con le attenuanti generiche non concesse alla prima perché recidiva. La requisitoria dell'accusa continuerà con il procuratore capo di Avellino Rosario Cantelmo nelle udienze fissate il 10 e il 19 di ottobre e il 2 novembre. Nell'udienza fissata per il 16 novembre cominceranno le arringhe della difesa dei 15 imputati.